Amici del software libero per source, benvenuti o bentornati in questa piccola video guida che vi spiega come installare KDE Control Center. Un nuovo widget che in questi giorni sta facendo molto parlare di sé, ne stanno parlando diversi siti, è un widget per KDE Plasma che aggiunge un Control Center ispirato a macOS. E sapete bene che molti utenti Linux amano riproporre il look in field di macOS sulle proprie distribuzioni. È comunissimo ad esempio vedere questi esperimenti su Gnome, ma anche su KDE, perché KDE anzi si presta meglio perché si possono fare diverse aggiunte per emulare il look di macOS. Questo widget è disponibile sia su KDE Store che potete scaricarlo direttamente tramite repository GitHub. Viene consigliato di installarlo direttamente a KDE Store ed è quello che noi andremo a fare. E questa recensione in blind, come si utilizza dire nel mondo dei videogiochi, perché non l'ho mai installato. Quindi lo scoprirò assieme a voi e vi darò le mie impressioni a caldo. Allora, tasto adesso sul desktop, aggiungi oggetti, ottieni nuovi oggetti, scarica nuovi oggetti. Aspettiamo che carica. Come potete vedere è anche uno dei più scarici, l'ultimo anzi che viene proposto. Lo troviamo subito subito, altrimenti basterà cercare Control Center. Lo installiamo. Ok, l'abbiamo installato. Una volta installato, basterà aggiungerlo alla nostra listo KDE. Vediamo se lo troviamo come Control Center. Ecco qua. L'abbiamo aggiunto. L'abbiamo aggiunto. Ah beh, non fate caso che me lo sono posizionato in basso a sinistra, perché è di default. Vabbè, lo potete spostare. Clicchiamoci da sopra e, spiacendo, si è verificato un errore durante il caricamento di KDE. E che bello, vedi? È bellissimo quando le cose non ti funzionano al primo tentativo. E' perfetto, però, come dice che è installato, che gli è piglia questo deficiente. Andiamo nella modalità di modifica. Lo rimuoviamo. Lo riaggiungiamo. Vediamo un po' ancora. Questa, c'è qualche problema. Aggiungiamo gli oggetti. Lo andiamo, ovviamente, ad aggiungere. Scusa, il control center. Ok. E non va. E non va. Perfetto. È bellissimo questa cosa qua. E il bello della diretta. Modalità modifica. Andiamo a vedere se c'è qualche problema. Però il widget sempre funzionano. Sempre essere installato con rettamente. Se aggiungiamoci la trasparenza, magari niente. E vabbè. Si conclude qui questa recensione di KDE control center. Che volete da me. Becco tutti i bug. A few moments later. Faccio schifo a pronunciare l'inglese. Allora, stavo per gettare la spugna. Ma ho detto. Ma è possibile mai che i bug devono capitare solo a me? E infatti i bug non capita solo a me. Andando nella pagina GitHub. È possibile vedere che questo problema. Del mancato caricamento del plasmoide. Di KDE control center. Si presenta anche su altri. Ed è dovuto alla mancanza di una dipendenza. Nel mio caso su Endeavor OS con KDE mi manca un pacchetto. Mi manca il pacchetto KDE plasma addons. Che adesso andiamo subito a installare. Poi, naturalmente, a seconda della vostra listo, utilizzate la sintassi corretta. KDE plasma addons. Si chiama così il pacchetto anche qui. Andiamo a installare. Ok. Andiamo a riavviare plasma. E voilà. Ecco. Funziona correttamente. Ovviamente basta per riavviare la sessione. Ma sono pigro e ho preferito farlo da terminale. Mi tengo adesso il terminale. Con tutti questi output. Allora. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Che cosa... Come funziona questo widget. Allora. Sì, il look è molto, anzi, macOS style. Queste icone sono orribili. Vediamo che cosa fanno. Connessione. Disconnette. Mi ha disconnesso. Mi ha disconnesso. Ok, funziona. Mi riconnetto alla rete. Bluetooth. Non c'è il modulo. Bluetooth collegato. Settings. Apre impostazioni di sistema. Ok. Modalità non disturbare. L'attiva. Come vedete c'è l'iconcina. Quindi non disturbare. KDE Connect. Ti apre. KDE Connect. L'ho disabilitato KDE Connect. Sulla mia listra. Poi un giorno magari vi spiego. Faccio un video dedicato al riguardo. E perché l'ho fatto. Night Color. Non funziona. Perché probabilmente non l'ho in modo installato. Nel frattempo mi stanno arrivando delle notifiche. Che cosa sono? Qualcuno ha combato qualcosa su Amazon. con il mio account. Evidentemente. Il nipotino. Qualche uno dei due di nipotino avrà noleggiato qualcosa. Su Prime Video. Da quel che vedo. Vabbè. Allora. Qui c'è il controller. Del volume. Funziona con la rotellina. Sì. Funziona lo scorrimento con la rotellina. Nome di aprile. Vediamo un po' che succede. Se io metto in riproduzione qualcosa. Copyright free. Copyright free music. Vediamo di riproduire qualcosa. Che non ha. Non ha copyright. Attimente ci becchiamo lo strike. Vabbè. Chissà che. Che mi possono fare sul canale. Che non c'è la monetizzazione. Ok. E come potete vedere. Sì. Funziona. Dicevo. Come potete vedere. Funziona i widget. Quindi. Appare la miniatura. C'è la possibilità di. Stoppare. Riproducere. Il brano musicale. In questo caso il video. Perché. Come ben sapete. KDE. Si integra perfettamente. Anche con la riproduzione dei video. E' possibile andare avanti. Immagino che funziona. Perfettamente. Anche se provo. A riprodurre. Musica locale. Che dire. Andiamo alle impostazioni. Mi sembra che avevamo già visti prima. L'unica cosa che c'è. E' la possibilità di attivare o disattivare. La trasparenza. E scala. Per esempio. Mettiamo 180. Che succede. Dovrebbe ingrandirsi. E in effetti si ingrandisce. Il valore di default è 120. Lo riportiamo al default. Ma che. Qui ci sono le scorciatoie da tastiera. E qui. Ci sono le informazioni. Su control center. Che dire. Utilizzerei mai una cosa del genere. Molto probabilmente no. Va benissimo. Per voi amanti. Della personalizzazione. Va benissimo. Per voi. Che siete. Alla ricerca di qualcosa. Per rendere. La vostra. KDE. Quanto più simile. A mercolese. Io non lo utilizzeri. Mai. Una cosa del genere. Onestamente. Non mi piacciono. Questo tipo di. Di widget. Che reclupano tutto. Così. Non mi piace. Non lo so. Lo vedo molto. Va bene. A parte i layout. A parte le icone. Che. Odio questo stile di icone. Ma. Che. Mi piace avere le cose. Così. Belle. Belle separate. Con. I microfonini. Con. La possibilità. Di gestione. La rete a parte. In monotasto. Monocosino. Così. Non mi sconfiffera. Per niente. Voi. Che cosa ne pensate. Vi piace. Non vi piace. Lo installerete. Lo utilizzerete. Tutti i giorni. Fatemi sapere la vostra. Lunga vita e prosperità. A tutti quanti. Ci. Riascoltiamo. Nella prossima puntata. Del podcast. Se seguite il podcast. Mi ritrovate su Marcosbox. Se seguite il blog. Se mi seguite soltanto su YouTube. Prossimamente pubblicherò qualche altro video. Con qualche altra guida. Inerente. Al mondo Linux. Vediamo di. Riportare un po' in vita. Questo canale YouTube. Ciao ciao.